Eccoci qua allora con l'Avvocato Pierluigi Bianchini che saluto e ringrazio per essere nostro ospite, benvenuto Avvocato, grazie. Allora, ieri conferenza stampa molto partecipata da parte dell'ex sindaco Gianni Moscherini, c'era parecchia gente e insomma è sembrato un po' che alla fine volendola proprio sintetizzare al massimo Moscherini ha detto è tutto un complotto, non è d'accordo, non proprio un complotto, Moscherini ha detto svariate possibilità, voglio la verità, voglio sapere che cosa c'è dietro questa vicenda, che insomma non è una vicenda ancora oggi abbastanza chiara. E che cosa ci potrebbe essere dietro? Ah, questo non lo so. Bisognerebbe chiederlo a lui? Bisognerebbe chiederlo a lui, non di entra nei compiti difensivi. Però se l'è presa un po' con tutti ieri Moscherini, nel senso che ha detto che ci sono una serie di persone che evidentemente hanno voluto, da quando è arrivato praticamente in questa città, è stato continuamente perseguitato dalla giustizia. Questo fa parte dei rischi di chi ricopre ruoli istituzionali, il fatto di essere sempre sotto l'attenzione, sotto la lente di ingrandimento delle condotte, poi ci sono delle responsabilità a volte che sono in natura oggettiva, prescindono dalla condotta in sé, solo per ricoprire determinati ruoli, sia hanno o si possono avere delle responsabilità, ma chi ricopre queste cariche sa che prima o poi può capitare che un'indagine ti colpisca, poi è l'esito dell'indagine che rileva i fini delle situazioni nella vita di una persona. E fino a questo momento, come ha sottolineato lo stesso Moscherini, dice io ne sono sempre uscito fino a questo momento pulito, a parte il progresso che ha in corso per la questione delle termine, però per il resto… Moscherini non solo ne è uscito, ma ne è uscito sempre, e questo è un punto di rimante importanza, ne è uscito sempre con una formula di assoluzione per non aver commesso il fatto, perché ci sono diversi modi di riuscire fuori da indagini, vicende processuali, insomma il modo in cui Moscherini è uscito dalle sue vicende processuali è un modo netto, chiaro, di assenza di qualsiasi responsabilità in relazione alle imputazioni che gli sono sempre mosse. La vicenda relativa alle terme è appena all'inizio e ritengo che era lo stesso epilogo di tutti i procedimenti che in passato hanno coinvolto Moscherini. E invece questa è un'indagine? Questa è un'indagine, quindi aspettiamo ancora alla Procura della Repubblica quale posizione prende al momento della conclusione delle indagini. Senato Avvocato, si sa qual è la motivazione, è arrivata già la motivazione del riesame relativamente all'annullamento della custodia cautelare? Non ancora. No, non si sa. Sappiamo che è stata annullata, sappiamo che quindi l'ordinanza era sicuramente carente di elementi strutturali essenziali e quindi ci possiamo aspettare una censura netta su un ragionamento che comunque è, e sapevamo che era completamente privo di ogni fondamento, di ogni riscontro, di ogni attendibilità, credibilità. Questo però sarebbe ben diverso se invece non ci fossero, se fosse stato deciso soltanto perché non ci sono le esigenze della misura cautelare. Cioè quello che sta dicendo sarebbe ben più pesante, insomma. Ma un'ordinanza applicativa di una misura restrittiva della libertà, quindi un provvenimento così severo che incide in modo così importante sulla vita delle persone, ha bisogno di due requisiti essenziali, i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelare, due elementi strutturali che debbono coesistere. O manca uno o manca l'altro, l'ordinanza è comunque sbagliata. E ripeto, è un'ordinanza sbagliata che incide fortemente sulla vita delle persone, sulla libertà di una persona. Questo forse è l'elemento che maggiormente dovrebbe interessare, come si è arrivati a questo provvedimento. Quindi insomma al di là di quale saranno le motivazioni, dice bisogna comunque tener conto che qui si sta parlando della vita delle persone, mi pare di aver capito. E non si può andare incontro a censure così pesanti. Ha detto una cosa Moscherini a me che ha colpito nella conferenza stampa di ieri, cioè ha detto è incredibile come io ho denunciato un fatto che poteva creare dei problemi e quanto pare neanche creati perché quando è caduto un pezzo di antimurale sulla darsene che si stava realizzando, perché secondo lui, e questo era il motivo dell'esposto che poi ha portato a tutto questo cancan, non si stavano usando i materiali che erano da capitolato, lui ha detto io ho denunciato una cosa che non andava bene e alla fine ci sono finito io in galera. No, no. Non è così? No, no. Moscherini in 68 anni di età non ha mai denunciato nessuno, l'unica denuncia che ha fatto è stata per calunnia nei confronti di quelle persone che l'avevano diffamato con accuse veramente gravi e diffamanti, ma Moscherini non ha mai denunciato nessuno, non ha denunciato niente. No, ma io non credo che parlasse di una denuncia vera e propria penale presentata, ma nel fatto che denunciava a Monti diceva guarda che lì non c'è il materiale che ci dovrebbe essere, in questo senso diceva la denuncia. No, quello che sia successo, che Moscherini e Monti abbiano parlato, questo nessuno lo mette in discussione perché il rapporto tra i due è sempre stato un rapporto di dialogo e di collaborazione, quello che si siano detti e nessuno lo sa con certezza, può darsi che Moscherini a conoscenza di fatti di cui ne era conoscenza l'intera città abbia tentato di suggerire, consigliare, ma sono ipotesi. Ma questo è quello che ha detto lui ieri, ma non ha fatto denunce. No, no, io dicevo ha denunciato nel senso che ha detto a Monti, non nel senso che ha presentato una denuncia penale insomma, ma che ha denunciato, guarda che attenzione lì ci stanno mettendo del materiale scadente, in questo senso dicevo denuncia, ho usato un termine sbagliato probabilmente, ti ha avvertito, diciamo così, ha avvisato Monti, guarda attenzione che lì ci stanno mettendo del materiale sbagliato. Probabilmente, ma questo io non c'ero quindi non lo so, ha comunicato, potrebbe aver comunicato a Monti quello che comunque in città già si vociferava, questo è un paese, non è che una notizia ci mette un'informazione vera o falsa che sia, ci mette tempo indeterminato a arrivare all'orecchio un po' di tutti, quindi Moscherini non so con esattezza quello che ha detto, ma si ha detto, ha soltanto riportato una notizia, un'informazione che riteneva comunque utile a Monti, in quanto stazione appaltante, quindi interessato anche Monti come Moscherini alla corretta esecuzione dell'opera. Senta, però Moscherini era anche lui interessato a quell'opera perché secondo quella che è l'ipotesi della Procura avrebbe intascato i soldini se fosse andato in porto all'operazione che voleva fare con Monti. La Procura ha fatto delle ipotesi assolutamente fantasiose, astratte e a tratti anche incomprensibili che, ripeto, hanno trovato una prima stroncante censura al primo tribunale che ha analizzato con sedietà questa vicenda. Al secondo, il primo è stato il GIP. Al secondo, questi sono punti di vista. Ma Moscherini non aveva nessun interesse, aveva un interesse iniziale quando ha ricevuto il mandato, ma nel corso del tempo, ma questo poi è depositato agli atti, Moscherini ha venuto a conoscenza che quella che doveva essere una cava con materiale interessante ai fini dell'appalto che si stava svolgendo in porto era una cava vuota, svuotata, priva di materiale per cui l'interesse di Moscherini a vendere un qualcosa che non c'era è sfumato da lì a pochi mesi dal mandato a vendere. Ma questo anche è documentale, ci sono i documenti agli atti, la Procura è esattamente a conoscenza. Ah, quindi non è esattamente così come ce l'hanno descritta all'inizio questa questione? No, la cava della Romana Cava è inattiva e vuota da tempo, è impossibile estrarre pietra di qualsiasi natura dalla cava, Moscherini nello svolgimento di quell'incarico ha fatto, ha proposto quella cava anche a altre società e quando si è trovato a fare il sopralluogo sulla cava e si è riscontrato che la cava non poteva produrre risorse in nessuna natura, Moscherini, lo ha dichiarato lo stesso Moscherini, l'accordo che c'era con la Romana Cava comportava anche un pagamento di uno stipendio mensile che Moscherini non ha mai ricevuto, proprio perché si è subito reso conto che quella non era una situazione fattibile. Senta, invece l'impressione è che comunque in tutta questa storia ci sarà ancora tanto da scrivere per noi giornalisti e sicuramente anche da lavorare per voi avvocati, perché ci diceva per esempio in un'intervista sempre qui da noi l'avvocato Taormina che addirittura c'è un'indagine della procura di Perugia nei confronti dei magistrati di Civitavecchia che è legata a tutta questa vicenda del porto, ci sono altre indagini sempre su minacce che sarebbero in questo caso contro i gnoti che sarebbero arrivate sempre al Presidente Monti, insomma come per usare proprio le parole di Carlo Taormina, di carne al fuoco ce n'è parecchia, lei che impressione ha? Che di carne al fuoco per la posizione di Moscherini non ce n'era prima e non ce n'è adesso, le vicende che non riguardano Moscherini, io non ne sono a conoscenza, riguardano altre persone che sapranno come affrontare questa vicenda, Moscherini con la sua indagine ha chiuso un capitolo che avrà degli strascichi che potranno svilupparsi in un avviso di conclusione delle indagini e una richiesta di rinvio a giudizio o una richiesta di archiviazione, questo è quello che riguarda Moscherini, il resto riguarda soggetti estranei, sia la mia posizione difensiva che è quella di Moscherini, le dichiarazioni fatte dal Professor Taormina probabilmente fanno riferimento a situazioni che esulano dai rapporti con Moscherini. Quindi invece da un punto di vista di questa indagine adesso succederà quello che ci ha detto, ancora deve essere conclusa l'indagine una volta che poi arriverà l'avviso, bisognerà a vedere, ma si aspetta che possa venire fuori qualche altra cosa in questa indagine? Perché il fascicolo a quanto pare è molto corposo. È impossibile, perché sono fatti del 2013 e cristallizzati, questo è il reato di estorsione, tentata estorsione è un reato a consumazione immediata, non è che si può nel 2016-2017 avere dei rilievi probatori che possono modificare un quadro che ormai è necessariamente cristallizzato. Quindi altri sviluppi oltre quello che non c'è, non ci saranno. Quindi è finita qua questa indagine sostanzialmente. Questa indagine è nata in modo anomalo e finirà nel suo modo inevitabile, che se non è una richiesta di archiviazione sarà una sentenza di assoluzione. Ma perché dice che è nata in modo anomalo? Basta guardare il numero di RG che porta il procedimento, che è il 2016, quindi una notizia di reato del 2016 per fatti relativi al 2013 già d'esta perplessità. Ricordiamoci che questi sono fatti che se percepiti come articolati nel capo di imputazione avrebbero dovuto portare obbligatoriamente da parte del pubblico ufficiale che aveva percepito il reato ad una denuncia, questo nel 2013. Nel 2016 non è che possono uscire fuori dal cilindro elementi di prova, indagini, anche perché devo dire che la notizia di reato, così come è formulata dall'APG, ipotizzata dall'APG, vedeva un'imputazione completamente diversa da quella che poi dalla procura è stata articolata. Cioè che capo di imputazione vedeva? Non vedeva certo il coinvolgimento del Presidente dell'autorità virtuale in una possibile fattispecie delittuosa. Quindi l'esito delle indagini aveva portato a un qualcosa di completamente diverso da quello che poi è stato presentato e rappresentato poi nel capo di imputazione. Un'ultima precisazione, Avvocato, poi giuro la lascio libero, che so che è impegnato, però ieri ad esempio in conferenza stampa è venuta fuori una cosa che ha fatto abbastanza anche discutere poi durante tutta la giornata di ieri nelle varie redazioni giornalistiche, perché a un certo punto è venuto fuori che praticamente l'interrogatorio di Monti da cui sarebbe nata tutta questa vicenda, era stato fatto all'interno della casa circondariale di Civitavecchia. Così viene riportato nell'ordinanza, giusto? Quale ordinanza? Quella del riesame. Ieri, quella che ha mostrato Moscherini ieri, io non c'ero ieri alla conferenza stampa purtroppo. Moscherini ha mostrato, mi sembra, che ha mostrato il verbale di interrogatorio. Il verbale di interrogatorio, esatto, mi scusi, il verbale di interrogatorio. Però il problema è che probabilmente quello è un errore, nel senso che io so che c'è stata una richiesta poi fatta dall'altra parte di correggere quell'errore perché l'interrogatorio in realtà non si è svolto all'interno della casa circondariale, ma alla segreteria del pubblico ministero. È vero? Al di là del fatto che è irrilevante la circostanza dove una persona venga sentita, perché questo non vuole dire qualificare la gravità del reato. Però le assicuro che questa cosa ha fatto discutere tanto ieri nelle varie redazioni. Ma secondo me è un errore. È un errore. Eh sì, sicuramente chi ha redatto il verbale si è appoggiato su un modulo prestampato che per sua sfortuna, perché già è anomalo, aveva, e proprio per l'anomalia non si è accorto che riportavamo. Ma rivedo, è irrilevante. È assolutamente irrilevante. No, però perché c'era gente che invece ci ha giocato molto ieri su questa vicenda, ma insomma non è... No. Non è assicuro. Vabbè, grazie all'Avvocato Bianchini per essere stato con noi questa mattina. Prego. Ci fermiamo soltanto un attimo perché dobbiamo fare un po' di yoga, lo vuole fare con noi l'Avvocato? Sì. Un po' di yoga, volentieri. Lo facciamo subito. Grazie a tutti.